Ha preso il via oggi il Carnevale di Arco, con la giornata dedicata ai bambini. La manifestazione quest'anno ha il suo cuore in pieno centro storico, attorno alla collegiata. Anima dell'iniziativa il gruppo Costruttori, con il sostegno del Comune di Arco. Ad iniziare dalle ore 14, divertimento per tutti, con giochi gonfiabili, intrattenimenti vari, raccontastorie, pista delle macchine e tanto altro. Domani l'attesa sfilata dei cari allegorici, per la quale faranno gli onori di casa il comico Lucio Gardin e il clown Polpetta, accompagnati da Musica dal Vivo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!